A 28 anni dalla scomparsa di Don Gianfranco Gaudiano, Pesaro celebra la giornata della solidarietà in ricordo di esempi e insegnamenti dell'uomo del fare che ha segnato un solco nella storia cittadina. La Santa Messa in Cattedrale, prevista alle 18.30 di domenica 10 ottobre, data della scomparsa di Don Gaudiano, sarà preceduta sabato 9 alle 15.30 al Cinema Loreto dall'incontro per educare passione, fiducia e speranza organizzato da Fondazione Don Gaudiano, Comune di Pesaro e CEIS. Il tema scelto quest'anno è l'educazione, l'educazione dei ragazzi e dei giovani. È stata chiamata la dottoressa Mariolina Ceriotti Migliarese, una neuropsichiatra e psicoterapeuta per sviluppare il tema. Ci saranno anche alcuni brevi interventi di Marcella Tinazzi, Don Giuseppe Fabrini, Roberto Drago, Domenico Azzolini e Giulio Damiani. La partecipazione è prevista per circa 150 persone. Le iscrizioni vanno fatte presso la Fondazione Don Gaudiano.